Cinque studenti che hanno da poco conseguito il diploma presso l'Idi di Bratola Peligna sono stati assunti dalla Magneti Marelli di Sulmona dopo le operazioni di selezione e reclutamento repersonale. Ha dato i suoi frutti il progetto di alternanza scuola-lavoro del polo scientifico tecnologico Enrico Fermi, che ha avviato lo scorso anno una sorta di partnership con la Marelli e Trenitalia per preparare gli studenti all'accesso nel mondo del lavoro. Sono stati 74 gli studenti coinvolti nel progetto, di cui 30 nel liceo scientifico Enrico Fermi e 44 dell'Istituto Tecnico Industriale, con 35 docenti impegnati non solo di materie tecniche scientifiche ma anche letterarie. Non una simulazione ma una vera e propria immersione in quelle che sono le dinamiche lavorative attraverso un sistema di selezione e reclutamento degli studenti che sarà gestito dalla Thomas International Italia, che offre agli studenti lo stesso percorso di inserimento che devono seguire tutti i candidati per entrare in un'azienda. Riguardo la Marelli il progetto si è esteso anche ad altre scuole italiane ed ha visto la missione di 24 studenti diplomati con età massima di 29 anni che sono stati selezionati attraverso un bando. I nostri cinque ragazzi sono stati assunti dopo aver conseguito un diploma ma tengo a rimarcare che sono state rispettate tutte le fasi di reclutamento e selezione del personale. Ha rilevato il dirigente scolastico del Polo Fermi Massimo Di Paolo. Se è vero che l'Idi di Prato la sarà leggerito per il rientro a Sulmona del Denino Morandi che avverrà in autunno, il preside annuncia che si sono formate cinque classi prime per rispettivi tre indirizzi di studio, come a dire che per le iscrizioni non conta solo la dislocazione della sede ma anche l'interesse e il fronte comune perché i numeri parlano più delle parole. Grazie. 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 Grazie.